Ok, ciao ragazzi, benvenuti in quest'altro video di Walkmaster Siamo ancora con il nostro, tranquillissimo, maialino Non fare una spaccata, porco Ok Dobbiamo essere attenti che qua si esce assai Ok, fantastico Cosa esce? No, motosega, mi sembra ovvio Salta, salta, salta Ok, ok, boni, boni, boni Comunque ragazzi Vi rilipo perché domenica non sono usciti i video Perché la domenica proprio non posso Gli altri giorni sono ok Sì, però non fare questo suono molesto Stupido maiale Comunque Ehm Ehm Ok Dov'è a dire il disco Mi pareva sempre il misato Non ci vedo Ehm Diamo Guarda, c'è barn 죽 Ora, si abbasera Eh No, c'eva E c'è la carne Sì Sì Allora Ora Così Così OK buono fantastico buono ok no dai pubblicità anche un gioco se sti giochi li facessero davvero così li metteremo tutti ma non sono capace a fare i giochi così e quindi mi hanno dato dubbio ma sarvei io voglio qualche finire non basta di liberare mi sono prete prete da ma fermare mi 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 completato molto molto easy mi è sbloccato vertigine ah credo sia cosa ha fatto una cosa poco femminile vertigini ok dovrebbe essere tipo una sfida bonus quindi proviamoci ok piragna vattene a fancane ok salta 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 gergiana sono gergiana sei in gergiana cosa dico sta a saltare ok fai così sento a piragna vattene a fancane di nuovo di nuovo ok ok questa cosa ci allunga la coda e poi ci siamo capiti diciamo che qui il ramo che si pede è buono ok no no giorgiana però sei un giorgiana se tu stu no ok andate la città la città 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 di maiale chi le vuole un po' no allora no ok ok poi qui non ci sono fatti qui eee no facciamo così allora no non cadere picchio male l'azio maiale ok buono e papum oh oh quanto non c'è l'amico la piattaforma si muove io devo sapermi o o o o ok facciamo il sicuro vediamoci poi mamma mia ragazzi assurdo andiamo avanti vediamo un po' no non cadere ok stavo a cadere prima di cominciare dai quanto è lento sto coso ok 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 no ti picchio ecco che sono brutto che suono brutto io ho le cuffie e lo sento mamma mia che sono brutto no eeeh buono ok ci siamo g ah credo che possiamo arrivare al 14 no non voglio i soldi in più guardando un video non fare sta cosa porco no prendiamo una bella caprarette ok come nel primo episodio ti raccomandare no 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 tocco è buono tocco è buono ok passo qui passo qui passo qui ora qui si stanno delle piante mi do appoggiare qua fancuore fancuore no sei solo un giorgiano facciamo così così c'è vizzo così c'è gargiana l'incendibile proprio buono e però cioè dai ragazzi come si fa dai ma cos'è questo proprio ok ok un regalo che sta arrivando un regalo buono si ha portato questo appoggiamento ok cammina gargiana ok la camma si abbassa dai muoviti fantastica ciao modica vedete anny dgd dgd forse riusciano a fare tutto nooo e sopra femminili che ti corrii a presso noo e gargiana quel coso vuol dire che fra poco arriveranno i tuoi cioni noo ho l'altro traumatizzato Non ti permettere, vai No, Giorgiana Giorgiana Ok, ok, ci siamo, ci siamo Ci siamo Buono Ok, non fare la spaccata Digi Pronto Dai, vediamo di superare questo livello Salta, salta Ok, Giorgiana Ok, ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo E... Opla E' andata Oh, finiamo anche il 15 Non lo guardo il video per le morete bonus Va a cagare, tu smettila di fare sta cosa Voglio la capra nella schermata di taricamento Ok, buono Spingi là Ok Spingi sta patatina, fantastico Poi ci appoggiamo sopra Ok Ragazzi, che traumi Ci siamo però Appoggia di qua Vai sul gommone Ok L'altro regalo, è vero Ho tentato di prenderli Va bene Anzi Prendevano un attore E... Un cappello di Babbo Natale Vabbè Come ho scritto Oh, nel titolo Dello scorso episodio di Walkmaster A Natale con la capra ci puoi fare di più Però qua ho felato Facciamo così Oh Oh Ok Fantastico ragazzi E vabbè Il video si conclude qua Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti